Facciamo un punto prima dell'estate su come sta andando la viabilità in regione. Diciamo che il vecchio piano di interventi straordinari sulla viabilità regionale sta arrivando ormai alla coda, nel senso che in questi 12-13 anni sono stati investiti oltre un miliardo di euro messi a disposizione dalla regione con il cofinanziamento anche degli enti territoriali, i comuni interessati e le province. Hanno riguardato un po' tutto il territorio regionale, abbiamo ancora dei cantieri aperti che sono quelli della 429 nella realtà metropolitana, quindi nell'Empolese, mentre in provincia di Siena con questa inaugurazione la partita è risolta. Abbiamo invece inaugurato qualche settimana fa il sesto lotto della 429, la città metropolitana sta mandando in appalto il quinto lotto, il quarto lotto è in fase di progettazione, ma nel 2018 anch'esso si avvierà alla gara di appalto. Abbiamo poi un altro cantiere aperto purtroppo da troppo tempo nell'Aretino, nella 71, la variante di Santa Mama che però si sta completando anch'essa. Abbiamo la variante di Santa Chiara, in questo caso siamo in Garfagnana, Lunigiana, anch'essa dovrebbe entro settembre, ottobre vedere il completamento dei lavori e poi abbiamo la 69 che per quanto riguarda il completamento tra la parte Aretina che è già stata realizzata e il casello di incisa, vede un primo lotto in fase di appalto dei tre che andranno realizzati e che però hanno il finanziamento attribuito. Quindi direi che la viabilità regionale ha visto in questi anni di competenza della regione una stagione favorevole, anche in questo momento difficile noi stiamo continuando ad investire. Ovviamente poi le infrastrutture in Toscana, vista la nostra centralità territoriale, riguardano anche quelle di rango nazionale e sovraregionale, sto pensando alle terze corsie autostradali che stanno procedendo in maniera direi a questo punto abbastanza spedita, sto pensando all'Ai 78, anche qui proprio qualche giorno fa è stato aperto il viadotto del Farma sulle terme di Petriolo, quindi un'opera direi imponente anche proprio dal punto di vista delle dimensioni della difficoltà realizzativa. Entro fine anno il cosiddetto maxilotto sarà completato, importante che prenderà via la gara anche per la realizzazione del quarto lotto e il prossimo anno quella dell'otto nove, quindi da Siena a Grosseto entro il 2022 penso che sarà completata la E78. Mentre la parte poi che va verso l'Umbria e verso Arezzo, ANAS, ha il compito e i finanziamenti per la sua progettazione. Stiamo assistendo al raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, a settembre farò anche un sopralluogo ma stanno scavando la galleria di Serravalle, i lavori stanno procedendo, mi dicono, nei tempi e bene. La progettazione invece per il raddoppio della Empoli e Granaiola è in fase di realizzazione da parte di RFI. Quindi direi che siamo di fronte a tante cose che si stanno muovendo nel verso giusto, speriamo di risolvere anche il tema di riflessione sul progetto per quanto riguarda la Tirrenica perché lì si è aperto come è avvenuto per il sottoattraversamento dell'alta velocità a Firenze una fase di revisione progettuale. A Firenze si è completato direi bene con la conferma di quello che era stato progettato e avviato in termini di esecuzione, anzi con l'aggiunta di un terminal bus per mezzi pubblici e mezzi privati che faranno della zona Velfiore una delle stazioni ad alta integrazione modale, quindi tra gomma urbana, gomma esterurbana, tramvia, ferrovia, sia l'alta velocità sia il servizio regionale. Credo che in tempi rapidi concluderemo anche questa riflessione che riguarda la Tirrenica con un obiettivo, realizzare un'infrastruttura che metta in sicurezza l'arteria, che abbia quattro corsie, che finalmente superi questo gap infrastrutturale che esiste tra Livorno e Civitavecchia. Noi sappiamo che l'autostrada è arrivata al confine della nostra regione, sappiamo che nella parte nord di Grosseto Anas ha le risorse disponibili e sta iniziando ad investire per la riqualificazione dell'Aurelia. Autostrada o non autostrada dobbiamo anche scegliere la soluzione per quanto riguarda Grosseto Sud-Ansedonia in maniera tale che si possa anche in quel tratto proseguire in maniera spedita.